4-0 del Roma. 4-1 invece dell'Inter sulla Dana Sport in Coppa UEFA. L'Inter ha vinto 3-1 all'andata. Ecco Altobelli che mette al centro per Beccalossi che aveva iniziato l'azione e la conclude in gol. In apertura di ripresa un'azione personale di Salvatore Bagni conclusa con un perentorio sinistro in gol. 2-0 per l'Inter che giocava sul campo neutro di Ceseno. E' di Serena il terzo gol della formazione milanese che va poi ancora a segno su quest'azione. Palo di Fermanelli in tuffo. Altobelli segna il quarto gol. E poi c'è la rete di Amet che sigla il punteggio sul 4-1 per l'Inter che supera ovviamente il turno. Soltanto il Napoli, come si è detto, non ha superato.